Il Presidente dell'Associazione Licola Mare Pulito, Umberto Mercurio, oggi nei nostri studi per parlarci dell'incontro che è stato chiesto al Sindaco di Pozzuoli. Il Sindaco ieri vi ha concesso diverse sono state le richieste che voi avete sottoposto al Sindaco per riqualificare la periferia, in questo caso Licola Mare. Sì, avevamo chiesto un incontro proprio perché volevamo sottoporre al Sindaco delle nostre idee, alcune cose che avevamo in essere. Devo dire che da parte del Sindaco c'è stata la massima disponibilità a realizzare alcune cose che noi abbiamo chiesto. Queste cose che noi abbiamo chiesto sono di fondamentale importanza. La prima riguarda la rotonda. Si sta concludendo un ITER che sta portando avanti Smagampania che con fondi propri, quindi Smagampania realizzerà la rotonda. Ricordiamo che la rotonda in quel tratto è fondamentale perché è un tratto di strada dove accadono frequenti incidenti. Sì, prima che adesso partisse questa sperimentazione, ancora prima quella piccola rotonda che fu messa all'epoca, quell'ingroccio era diventato un luogo dove avvenivano 4, 5, 6 incidenti al giorno, però bisogna realizzare l'opera perché così com'è non va bene. La seconda richiesta che avete sottoposto al Sindaco è relativa alla spiaggia. Sì, la spiaggia presentava alcune problematiche. La prima che noi abbiamo sottoposto al Sindaco era quella di dotare la spiaggia di una passerella per far accedere anche i disabili ad usufruire la spiaggia. Noi come associazione abbiamo la custodia e la pulizia della spiaggia. Il resto delle cose spetta l'amministrazione comunale. Devo dire che questa nostra richiesta è stata accolta dal Sindaco, il quale si è fatto carico veramente, si è impegnato, ha fatto una serie di telefonate davanti a noi, bisogna dargli atto di questa sua sensibilità verso i disabini, per realizzare questa passerella. A breve avremo questa passerella. L'altro risultato, altra cosa che mancava, erano i bagni. Allora, dal primo luglio doteranno l'ingresso della spiaggia a Via Dentice, doteranno di due bagni chimici, uno per gli uomini e uno per le donne, da parte del Comune. Infine avete avuto garanzia dall'amministrazione che a settembre sarà posizionata a Licola una casetta dell'acqua. Il Sindaco ci ha lasciato i basiti e ha detto, ragazzi, a settembre avrete la casa dell'acqua anche a Licola. Colgo l'occasione da parte di questo emittente per ringraziare Franco Cammino, perché Franco Cammino è veramente la persona che ci sta seguendo in una maniera splendida. Tutti i nostri problemi li rivolgiamo a lui e lui è sempre lì, presente, a risolverlo. Prossimamente c'è stato assunto un impegno che è quello della pulizia del canale abruzzese che va dal sollevamento alla foce e di tutta la parte del posteggio sopra l'albo dei Camaldoli. Abbiamo protocollato una richiesta al Sindaco con la quale chiediamo di istituire anche a Licola Mare un giorno di mercato. La gente ha bisogno di quel giorno di mercato perché si sposta da Licola Mare, voi sapete la difficoltà, i mezzi che non vanno, le corse che vengono soppresse. È un'idea che abbiamo lanciato al Sindaco, spero che quest'idea il Sindaco la raccolga e la faccia sua e ci dia veramente questa bellissima notizia prima o poi, che anche il mercato a Licola si possa fare. Rilanciamo la zona, sono piccoli segnali, ma queste sono le cose piccole che poi fanno diventare grande anche la politica. Grazie.